GF VIP7, confermati i tre nuovi concorrenti entreranno nelle prossime puntate, due sono ex fidanzati. Il grande fratello VIP7 riserverà ancora delle importanti novità ai telespettatori. Infatti, dopo gli ultimi ingressi di Milena Miconi e di Riccardo Fogli, poi subito squalificato per bestemmia. Altri volti nuovi si uniranno presto al cast delle reality show. Infatti, come confermato da Gabriele Parpiglia nel corso dell'ultima puntata di Casa People sarebbero ben tre i nuovi vipponi pronti a varcare la soglia della famosa Porta Rossa. Tra di loro un altro volto noto di uomini e donne, l'ex tronista Davide Donadei. Il bel pugliese è fresco di rottura, non senza polemiche, della sua storia con Chiara Rabi. Che aveva scelto proprio nel dating show di Mediaset. Ma, insieme a Davide, dovrebbero entrare nella casa anche altri due nuovi concorrenti Nicole Murgia e Andrea Maestrelli. I due avrebbero avuto un flirt la scorsa estate e, adesso, si ritroveranno insieme al GF VIP. Entrerà un ex tronista. Nicole Murgia, l'ex fidanzato di Nicole Murgia, si va avanti di triangoli. Andrea è di professione calciatore, come il fratello di Nicole, Alessandro. La Murgia è conosciuta al grande pubblico anche per aver preso parte nella polemica nata tra il fratello e Vittoria Daganello. L'ex corteggiatrice di uomini e donne ha pubblicamente attaccato Alessandro per essere stata lasciata. Mentre è in attesa del loro primo figlio. Nicole, invece, ha più volte pubblicamente difeso il fratello. Un post condiviso da Andrea Maestrelli, e Tandi Maestrelli.